Per me è sempre un grande onore tornare qui perché a me il Festival di Torino mi piace proprio molto e spero di tornare ancora. Mi ha emozionato fare la madrina perché non lo so cosa sia davvero una madrina quindi l'unica cosa che io volevo fare è dare una mano. Come è andata me lo devi dire tu. Io ti dico che da dentro mi sono divertita molto. Ti hai permesso anche sugli schermi? Con un film che partecipava alla sezione After Hours quindi fuori concorso che si chiama Letto numero 6 che uscirà a giugno. Amici del Festival vi saluto e spero di rivedervi molto presto. Viva il cinema e bravi che andate in sala.